la bilancia inserendo una moneta si può usare sia la moneta che il gettone qui abbiamo il peso la statura e fra poco apparirà l'indice di massa corporea e vediamo la condizione che in questo caso è di sovrappeso anzi di obesità classe 1 il biglietto esce e nel biglietto abbiamo lo spazio per l'intestazione data e ora il peso la statura l'indice di massa corporea la nostra condizione che in questo caso obesità classe 1 suggerisce anche quello che potrebbe essere il peso ideale e spiega cos'è il bmi e da un consiglio di tenere sotto il controllo sotto controllo il proprio peso misurando con regolarità l'indice di massa corporea cambiare la carta è estremamente semplice è sufficiente spingere questo pulsante sollevare il gruppo inseriamo il nuovo rotolo di carta la carta deve uscire verso il basso appoggiamo e pigiamo in questo punto per chiudere